andando da qui si dai anche se un depredito il cazzo no no ragazzi due divanetti no 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 uno centro andrò al divanetto andrò al divanetto io andrò allo scoperto guarda qui la fa sempre cb1 ok siamo in tre qua ah no no due qua vabbè dai questi stanno a giocare qua eh si puoi vedere come rusham con le orte se le mamma mia che mi ero girato un momento oh state in due la e divanetti il è quello di squadra bomb caso come dovevi far cambio grata uno dollar se i glitchi ti kick hanno eh ma sto clicciando io lo dico per te poi sto pompa tanti uno è caduto caduto ok riusciaci facciamci sto in bash ce le magna però chi si mette è buono e vuole con se vabbè vabbè giuva dietro giuva dietro giuva dietro giuva dietro quanto ecco lo sapevo lo sapevo e questo qua è bannato e questo qua è bannato perchè non l'ho glitchato non ho fatto niente così le perdiamo le cv eh ce le puoi perdere eh si loro mi chicano e mo' colpa mia che cazzo stai dicendo ma che cazzo di colpa mia mo' stai dicendo non ho fatto niente e che sono i turchi di merda porco dio vabbè vabbè raga però mi innervo si scondo facciamo così eh vabbè 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 non è così stiamo vincendo giuva tutta sinistra buona luca buona buona perciò buona perciò buona perciò buona perciò qua giovanni che si accendono stiamo vincendo 1 a 0 e mi si accendono da 2 quanto è scoperto quanto è scoperto quanto è scoperto ci sono ci sono c'entro non c'entro f***** vabbè hs f***** è morto quello c'entro luca c'entro di sniper eh dove sia fattelo donna fattelo fattelo bravo andate a scala bravo donna andate a scala bravo donna eh di cecchino luca di venetti no è andato via luca te lo fai di sniper aspetta vedi che forse vinciamo noi no è così pinta si si c'ha ragione così pinta raga così pinta statemi sopra e arriva io direi vattene luca se io direi scappa che eh puoi raga il mio consiglio è scappa è raga il mio consiglio è scappa è raga t raga 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 Tutti sotto? Ah no no sto scherzando, perché tutti sotto? Uno sopra, due sopra c'è l'ho andato Qualcuno... Qualcuno... bravo Ragazzi sopra Eh... sono io Non può stare se ho Luca sopra Ecco è salito, vi... vi arriva da metà Bravo Donato, bravo Così devi giocare da noi Ok, Mario switch, clicca pure a Mario Calma calma, così è qui nostra Luca sopra a base loro c'è qualcuno Eh... non vorreste... riuscite a vedere voi? Ah, lo so, lo so, lo so... Ah, lo so, lo so... E' due minuti ora c'è... No Mario devi guardacentro, Mario stai qua Guarda siamo proprio uguali Ehm... Ma quanto stato? Ehm... 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 Non è giusto E allora... E allora... che cazzo... Ehm... Manco nelle SND posso entrare già mi chicca, ma che cazzo è? Oh madonna... Allora siamo in cv, per favore si è pregato di urla No... Comunque hai sbagliato tu a scrivere Si, ne meggio? Ok No ma ci sta un po' di sfottore, questi casi offendano Eh... Questo ce l'ha da dire Allora, 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 secondo il tuo ragionamento Il prossimo che... Centro, centro, centro Mario, centro Il prossimo che... facciamo cv contro Che ci sono le regole e scrive Is, lo devi chiccare Devi fare... devi fare così No, allora siamo in cv, è su 2 Occhio, centro E' morto E' morto E' morto Mario, fatelo Mario, mannaggia No, è dietro, lo vedete? È dietro Via, via, salienta Dov'è? Non so, ma un sesto senso, no no Prendiamo questa cv dopo dollar, mamma mia lo spacco Mario, non ha fatto nulla, dai, che cazzo è? Ragazzi, attenzione, centro Il rush a sopra me lo dite, no? Spero Si, si, si Non c'è nessuno alla Coca-Cola Eh, questi camper hanno... bella Mario, bravissimo Bravo Mario Aspettiamo, aspettiamo Luca, dici tu se riusci, eh? Si, 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 della Coca-Cola a zero, non c'è nessuno Se non moriamo tutti Adora Adora Poi c'è giurizzata che c'era Che c'era? Si, si Cos'è un win, ragazzi? 10, 15 Ragazzi, abbiamo 6 kill in più, eh Mamma mia Hai scritto quello Mario? Di Mario Farb foto? Mario Farb foto? Mario Farb foto? Ma cosa sta bruciando? Mammo, posso portare a caricare? No, no Ecco, guarda che ho scritto Go Delta Ah Cos'è che fai? Cos'è che fai? Vieni qua Occhio, eh lo so Luca, sulla gru, Luca Eh, non faccio, dove, dove, gru? Aspetta, fermo, fermo Luca, sta sulla gru Ma dove? Su o? Eh, qua da noi, quasi da noi Sta proprio quasi da noi Posso da qua, che sono nella merda Eh, sulla punta Ah, dove? Non c'è qua Guarda dove c'è Ma dove c'è il lavoro? Esatto Uno che sali su Eh, sono andato ai bagni Ecco, Massimo, si chiama Groove Salite voi che qua Bravo Luca Anzi, bravo Mario Anzi, bravo Mario Dove? Reali Guarda, comunque Qua, qua Occhio, rush, rush, meet, 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 meet Pure mezzo tetto sopra Cazzo tetto Vi ho dato un culpo Cazzo Mi volevo suicidare Mamma mia Non ci sono riuscito Mi piace Ragazzi Se ve lo fate Mi sa che è qui Ne? 8, 9, 10 Cazzo Dove? Da te Mario? Ups Mamma mia, GG Bravi tutti A parte Dollar Bravi tutti Ah, riga, cazzo Ho visto quelli alla con 180 cavalli Uah Bravi 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 Mamma mia, donato Fisk Oh, due ultimi Ho creduto che ci ha donato Sta sopra qua Ma che fin Grazie Sensor Puttana Cinese Occhio, occhio E uno era Tianetti Si Ti Hai vista Luca? Da, son morto io, prova Uah, Paolo Di Pala Ragazzi, se il Torino non vince Mamma mia Io uno U Saprei messo quella schedina Cioè, Bologna-Torino Che sta facendo il Torino? E' Napoli, si Perde una zero Che mai No Mario, mi è fottuto la kill Mamma mia Ma che ore non c'è la partita? Giovanni Buona, bravi Grazie